non solo per andare in bicicletta ma proprio per stare insieme niente, volevo dire un paio di cose faremo a metà dicembre faremo un'altra serata a metà dicembre faremo un'altra serata per il tesseramento 2015 stasera finiamo l'anno vecchio poi l'anno nuovo ci pensiamo ricordo in anticipo l'anno prossimo è in calendario il raduno e la gara tutti in un unico giorno il 27 settembre ci sarà un giro per la gara, un giro per il raduno diversi vi anticipo e spero nella massima collaborazione perché sarà una cosa impegnativa visto che si fa in un giorno solo più siamo più ci divertiamo già vi anticipo adesso che manca un anno però per concludere la stagione che abbiamo passata voglio ricordare che come società siamo arrivati primo nel campionato Cessi Calanchi terzi nel campionato romagnolo terzi nel campionato romagnolo volevo dare diciamo così a chi nell'anno agonistico senza togliere niente agli escursionisti che sapete che io vengo da lì volevo dare un commento a chi nell'anno agonistico anche solo per la presenza dimostrata la costanza dimostrata un piccolo pensiero e un ringraziamento allora partirei con le premiazioni diciamo con Pellegrini che è stato presente un piccolo pensiero ha fatto tutto il campionato bolognese grazie 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 ci restaniami ci restaniami ci restaniami Michele ciao Michele ciao Michele se è il conto è il campionato partagana ciao Michele voce anche la valletta va bene poi c'è di leva ciao Michele ciao Michele ciao Michele Grazie a tutti. Grazie a tutti.